Autonomia a stop dalla Corte, De Luca, legge smantellata. All'indomani della pronuncia della consulta, che ha demandato diverse modifiche alla legge Calderoli, il governatore Sulta, la campagna è stata la prima a fare ricorso. L'Italia respira dopo un anno di mobilitazioni. Lo sparo poi le urla, così è stato ucciso Santo. In due video i drammatici momenti del 19enne assassinato a San Sebastiano al Vesuvio. La famiglia del calciatore attraverso i propri avvocati respinge le accuse. Proviamo sdegno e dolore, Santo non ha aggredito nessuno. Niente armi ma sicurezza, studenti campani in piazza. Da Napoli ad Avellino i cortei di protesta dei giovani del mondo della scuola. La slogan contro la guerra è l'appello alle istituzioni a investire sugli istituti fatiscenti. Strescione al maschio angioino per invocare la fine dei conflitti. Saremo determinanti, ma Stella lancia la sfida. Il sindaco di Benevento inaugura la nuova sede del partito Noi di Centro e rivolge lo sguardo alle prossime elezioni regionali. Moderati decisivi assicura. Poi l'affondo sulla carenza sanitaria del sannio serve un cambio di passo. Pestum, reperti inediti sull'identità romana. Inaugurata la nuova sezione del museo con altri reperti, documenti e fotografie. Per il direttore generale del museo, Osanna, si tratta di un nuovo tassello che arricchisce l'offerta culturale del sito archeologico salernitano. Napoli difesa di ferro con Buongiorno e Di Lorenzo. Dalla partita con la nazionale le nuove conferme, ma tifosi preoccupati per il futuro di Quara. In bicco l'Antuono prova la salernitana nel test con la primavera. In C, attesa per il derby, Benevento Avellino. Tanti dubbi per i due allenatori. Buonasera e ben ritrovati con il nostro Tg. La consulta boccia alla legge sull'autonomia. De Luca canta vittoria. Ora il Parlamento approvi la proposta della campagna. Sindacati e partiti di centrosinistra esultano e anche da Forza Italia. Martuscello lancia un messaggio agli alleati. Sentiamo. La Corte Costituzionale smonta la legge sull'autonomia differenziata accogliendo parzialmente i ricorsi della regione campagna che è stata la testa d'Ariete insieme a Puglia, Toscana e Sardegna. Per la consulta poco spazio ai dubbi. La riforma va riscritta in Parlamento. Da cancellare i capitoli chiave come il trasferimento dei poteri dallo Stato. Impossibile cedere intere materie come la sanità, spiega la Corte. Si potranno solo affidare singole competenze. Ad esempio la gestione degli ospedali. Vincenzo De Luca canta vittoria. Nel suo intervento del venerdì ripercorre le tappe della battaglia. Dalla marcia dei sindaci di febbraio a Roma alla proposta emendativa presentata qualche settimana fa. Ora è probabile che questa pronuncia della Corte Costituzionale costringendo alla revisione totale della legge Calderoli renda superato anche il referendum. Ma su questo si pronuncerà la Corte di Cassazione. Quello che è certo è che la legge Calderoli è stata completamente svuotata e in buona sostanza si blocca il cammino dell'autonomia differenziale. Da adesso in poi bisogna rivedere tutta la legge Calderoli. Bisogna ricominciare a capo. È molto probabile che non se ne faccia più niente. E questo rende ancora più importante la scelta fatta dalla regione Campania e cioè quella della linea burocratica. Bicchiere mezzo pieno per la CGL che teme ora la riscrittura veloce a colpi di maggioranza in Parlamento mentre la UIL auspica l'azzeramento totale. Dal PD al Movimento 5 Stelle si canta vittoria. La legge ormai è carta straccia, la destra nesce sconfitta. Ma anche Forza Italia dalla Campania con Martuscello frena gli alleati e li avverte. La Lega se ne faccia una ragione. Ora pensiamo a cose più importanti. Le indagini sull'omicidio di Santo Romano denunciato per concorso in omicidio l'amico che era con il 17enne Reo Confesso intanto dopo la diffusione del video i legali della famiglia accusano Santo è una vittima. La Napoli violenta e l'escalation di giovani vittime. La diffusione del video da due diverse angolature che immortala gli ultimi istanti di vita di Santo Romano il calciatore ucciso a San Sebastiano al Vesuvio scatena l'ira della famiglia. Nelle immagini si vede Santo accasciarsi a terra dopo essere stato centrato dal proiettile gli amici disperati e increduli che si mettono le mani nei capelli e provano a soccorrerlo. Tutto intorno il fuggi-fuggi generale dei giovani terrorizzati. In una nota la famiglia respinge l'ipotesi che Santo abbia aggredito il 17enne con una pietra. Apprendiamo con sdegno e dolore della pubblicazione dei filmati. Non vi è alcuna evidenza o prova che Santo Romano abbia mai lanciato una pietra all'indirizzo di chi che sia ma anche mai del soggetto che lo ha brutalmente ucciso con un colpo di pistola hanno fatto sapere. Intanto nuovi sviluppi investigativi. Il giovane che era in compagnia del 17enne Reo Confesso è stato denunciato per concorso in omicidio. Al vaglio dei carabinieri anche il ruolo di altre persone presenti la notte dell'assassinio tra cui l'amico che ha ospitato il presunto killer in un'abitazione del quartiere Barra Napoli. In alcune foto pubblicate sul web inoltre il minorenne indagato è ritratto accanto al figlio di colui che è ritenuto a capo del clan Aprea e al giovane Francesco Piovalda sotto processo alla corte di Assise per l'omicidio dell'aspirante pizzaiolo Francesco Pio Maimone come santo romano ucciso con un colpo di pistola al petto la notte tra il 19 e il 20 marzo del 2023 davanti agli sciale di Mergellina. Crimi del web da Napoli parte un progetto di Ministero della Giustizia e Comune per tutelare i giovani dai pericoli della rete. fenomeno in crescita serve prevenzione. Ministero della Giustizia e Comune di Napoli insieme nel contrasto ai reati del web per tutelare le giovani vittime nasce con questa finalità il protocollo d'intesa siglato oggi a Palazzo San Giacomo un progetto pilota che parte da Napoli dalle scuole Pavese e Nazareth della Quinta e dell'Ottava Municipalità ma che ha l'obiettivo di estendersi ben presto anche ad altri territori. Gli alunni sono di fatto molto soddisfatti e contenti nell'interlocuzione di aver ricevuto delle informazioni delle sensibilizzazioni e un invito alla responsabilizzazione che poi è anche un invito rispetto alle vittime perché molti minori non sono consapevoli di essere vittime nel senso che stanno sulla rete ma non sanno che in quel momento ne stanno diventando vittime quindi bisogna anche responsabilizzare sia sul danno che si può fare ma anche su quello che si sta ricevendo. Saranno proprio coinvolte le famiglie saranno coinvolti comunque stesso i ragazzi quindi che a loro volta saranno i promotori quindi saranno dei tutor quindi questa è la novità si articolerà quindi all'interno della scuola e poi speriamo che si possa poi diffondere questo modello positivo possa essere diffuso perché abbiamo tante scuole del territorio quindi a partire da quella che si possa ampliare perché è un fenomeno importante che va attenzionato e su cui va fatta una prevenzione accurata. Siamo grati al Dipartimento della Giustizia Miorire per aver portato a Napoli questo tentativo di prevenzione che andrà nella direzione di far comprendere ai ragazzi il rischio della rete. Oggi giornata di sciopero nazionale per la scuola l'Unione degli Studenti scende in piazza per chiedere scuole sicuri ecosostenibili e supporto psicologico contro un sistema educativo che sta distruggendo la qualità della nostra istruzione sospendeteci tutti migliaia di studenti sono oggi in piazza per manifestare in tutto il paese per lo sciopero nazionale organizzato dall'Unione degli Studenti chiedono una scuola che sia davvero inclusiva libera da logiche di sfruttamento e subordinazione al mondo del lavoro e della guerra e in grado di rispondere ai bisogni di chi la vive oggi siamo in piazza in tutta Italia perché è in gioco il nostro diritto a un'istruzione degna libera e davvero accessibile non vogliamo più essere ignorati dicono salirevi in provincia per proporre un tavolo dove saranno presenti consiglieri provinciali e studenti di tutta la provincia di Salerno riguardo il trasporto edilizia e benessere psicologico di chi studenti come Unione degli Studenti Avellino in particolare abbiamo quattro vindicazioni centrali che sono appunto edilizia e trasporti che sono anche il motivo per cui saliremo in contrattazione in questo momento abbiamo appunto presentato un dossier insieme a una serie di raccolta cioè abbiamo fatto una raccolta dati insieme ad alcune scuole quali l'Imbriani e il Marone e abbiamo provato a fare una raccolta dati una mappatura di quali sono le situazioni dal punto di vista edile delle scuole noi vediamo una repressione sempre più forte nel governo delle istituzioni nei confronti degli studenti che scendono in piazza e non solo gli studenti e i lavoratori e quindi democrazia perché creiamo spazi più democratici più potere più libertà di parola e di espressione noi lottiamo proprio per cercare di portare degli ideali alternativi non solo nella lotta quotidiana ma anche all'interno delle scuole così da poter rendere la scuola migliore non solo per gli studenti ma anche per chi ci lavora Restano stabili le condizioni di Angelo Galasso il 18enne coinvolto in un incidente sul raccordo Salerno Avellino il giovane di Montoro ieri è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico per la rimozione di ematomi ora bisognerà attendere i tempi clinici necessari per la sua ripresa questa mattina è stato sottoposto a nuovi esami in attesa di riscontri positivi nel frattempo il mondo del web ma anche le comunità di Montoro e Avellino si sono strette attorno alla famiglia e sono tante le iniziative di amici parenti e conoscenti per pregare in una pronta ripresa Angelo sei un leone lotta uno dei tanti messaggi apparsi su Facebook ma anche i compagni di scuola dell'ITIS i tifosi dell'Avellino Calcio hanno manifestato tutto il loro affetto con striscioni e cartelloni ieri sera inoltre la comunità parrocchiale di Torchiati si è riunita in una preghiera presso la chiesa di Loreto affinché Angelo possa tornare in mezzo a noi alle regionali saremo determinanti parola del sindaco di Benevento e leader di Noi di Centro Clemente Mastella che inaugura la nuova sede del suo partito e suona la carica la vicenda dell'autonomia differenziata mostra la necessità di recuperare il buonsenso democristiano non può che cominciare da qui Clemente Mastella il sindaco di Benevento ha riunito le truppe Mastellate questo pomeriggio per l'inaugurazione della nuova sede di Noi di Centro quanto alle prossime regionali in campagna ha annunciato Noi ci presenteremo alle elezioni da sole cioè nel senso che la nostra lista è a partire da Benevento oggi iniziamo la campagna elettorale che si svolterà fino a quando ci saranno le elezioni quindi vaglieremo situazioni indicazioni faremo proposte e presenteremo la lista E sul tema delle alleanze? Alleanza con chi ci rispetta tre opzioni che scegliamo e in queste tre opzioni io credo che prendendo gli stessi da volta scorsa più di 100.000 saremo determinanti E ancora aggiunto con lo scontro frontale che si profila a sinistra e un centro-destra che necessita di potenziarsi al centro e sui territori noi saremo decisivi guardiamo i territori alle aree interne sempre più trascurate infine la questione sanità e il caos all'ospedale San Pio di Benevento Io posso accettare che mancano i medici mancano gli infermieri manca tutto però l'organizzazione diciamo in cui mancano le barelle questo dipende da chi dirige l'organizzazione dell'ospedale e qua da noi non va bene va assolutamente bene una volta che io invio lettere e magari se ne strafotto qui non voglio incontrare più nessuno quindi ci vedremo nelle sedi istituzionali Inaugurata al Museo archeologico di Pestum una nuova sezione dalla città romana ad oggi reperti inediti documenti e fotografie per il direttore Osanna un nuovo tassello importante per la città Un viaggio suggestivo nella storia millenaria della città dalla fondazione della colonia latina fino al medioevo il Museo archeologico nazionale di Pestum si arricchisce di una nuova sezione dedicata all'illustre archeologo Mario Torelli È un nuovo tassello importante per questo museo la parte romana di Pestum è straordinaria è importante la colonia latina del 273 è stata una città strategica per questo comparto della Magna Grecia una città romana studiata soprattutto da Mario Torelli a cui è dedicata questa sezione non solo è un nuovo tassello per un museo all'insegna dell'accessibilità ma è anche un museo che sa ricordare ricordare una figura straordinaria come l'indimenticabile maestro Mario Torelli un percorso espositivo ricco di reperti archeologici molti dei quali inediti che raccontano la vita quotidiana le usanze e l'evoluzione urbanistica dell'antica Posidonia documenti e fotografie illustrano poi le fasi di scavo e lo studio per far rinascere tesori nascosti questo è un momento importante all'interno da una parte di un intervento di ristrutturazione ammodernamento e riallestimento del museo ma anche una tappa importante per noi nel contesto di una rivalutazione e anche un ampliamento del lavoro che stiamo facendo sulla Pestum romana con attività di ricerca di restauro e di fruizione stiamo cercando di valorizzare una storia che deve forse essere raccontata di più che dobbiamo condividere appunto con tutti i nostri pubblici partita la novità per accedere al parco archeologico di Pompei con il numero chiuso per i visitatori e biglietti nominativi 20.000 gli ingressi al giorno consentiti fasce orarie specifiche durante il periodo estivo biglietti numerati e nominativi per tutti e per tutto l'anno al via la sperimentazione per i biglietti per il parco archeologico di Pompei che saranno ora a numero chiuso non più di 20.000 accessi al giorno e tutti i nominativi a presentare e spiegare le nuove modalità è stato il direttore Gabriel Zucchetrigel biglietti che potranno essere acquistati sia in loco che online vogliamo garantire a tutti i visitatori un'esperienza comunque di qualità Pompei non deve mai essere un turismo di massa ma deve essere sempre la qualità al centro abbiamo un territorio meraviglioso dove vogliamo canalizzare maggiormente i flussi anche gli investimenti la ricerca è una misura non contro la crescita anzi noi puntiamo su una crescita sostenibile per noi è anche occasione di rendere più personale la visita non vengo più come un numero anonimo ora massima attenzione anche per contrastare il fenomeno dei bagherini tema che stiamo monitorando molto attentamente insieme alle autorità dal momento che il biglietto è personale diventa più diventa impossibile rivendere dei biglietti dunque noi faremo ovviamente dei controlli a campione ma dei controlli tutte le giornate sulla corrispondenza tra il nome sul biglietto e quello reale nato nel 2019 come esempio di recupero industriale dell'ex stabilimento birraperoni la birreria prosegue il suo cammino di sviluppo con la nuova area ristorazione accattivante elegante e con nuovi spazi accoglienti il centro commerciale e la birreria si amplia e diventa sempre più competitivo e punto di riferimento per l'interland napoletano un nuovo capitolo dunque si apre per il centro commerciale con il rinnovamento della sua area ristorazione situato nell'ex stabilimento birraperoni la birreria è oggi un simbolo di trasformazione rinascita per l'area nord della città un punto di riferimento non solo per lo shopping ma anche per il tempo libero e la socialità questo è un punto fondamentale all'interno del piano degli sviluppi che sono stati previsti e pian piano stiamo attuando per la birreria che consente di connotare il centro commerciale e la birreria sempre più come un centro di riferimento non solo per il territorio al contorno quindi quartiere di Miano quartiere di Secondigliano ma sempre di più come centro polifunzionale per la città di Napoli e quindi da questo punto di vista la food court è solo uno dei tasselli di cui si compone questo percorso di investimento che stiamo facendo nel 2019 noi abbiamo concluso un percorso di riqualificazione dando e restituendo la città un pezzo diciamo un immobile che era i cosiddetti vuoti urbani che è stato dato a una nuova vita quindi con nuove funzioni da quel momento è iniziato un nuovo percorso ovviamente sempre per i napoletani sempre per sia i clienti ma anche per i commercianti che sono persone che investono i loro danari all'interno dei centri commerciali e perché no anche per l'indotto di quelli che sono gli assunti o di tutti quelli che forniscono dei servizi all'interno del centro commerciale ed è tutto con il nostro TG grazie di averci seguito vi auguro una buona serata grazie a tutti grazie a tutti